San Giuseppe, Padre Amato. La prima caratteristica di San Giuseppe di cui ci parla Papa Francesco nella sua lettera Patris Corde è quella di Padre Amato. Il Santo Papa Paolo VI descrive San Giuseppe come colui che si dona totalmente nella relazione familiare a cui è chiamato e dà tutto se stesso al servizio di Maria e Gesù. San Giuseppe, amando Dio per primo, ama con tutto il suo cuore il progetto che il Signore ha per lui. Facendosi egli stesso dono, non possiamo che sentire amore per lui. Possiamo immaginarcelo come un uomo silenzioso, dedito e premuroso in ogni cosa che fa. Quante le chiese, le confraternite, i movimenti e i santi che sono legati a San Giuseppe. A San Giuseppe, sottolinea Papa Francesco, è legata alla fiducia di tutto il popolo cristiano e questo legame è riassunto nell'espressione Ite ad Iosef, cioè andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà. Il riferimento è a Giuseppe, il figlio di Giacobbe, che i fratelli vendettero per invidia, ma che egli seppe amare sinceramente e senza rancore, richiamandoci un amore pure incondizionato anche verso i nostri fratelli. Giuseppe seppe prendersi cura di Gesù e Maria con un amore forte e gentile, l'amore di un padre per la famiglia a lui affidata. Chiediamo allora a San Giuseppe la sua intercessione, perché anche noi possiamo donarci con lo stesso amore che ha espresso nella sua vita. Gugliannina, sono sposati da 15 anni e abbiamo tre bambini piccoli che in questo momento stanno dormendo. Il nostro rapporto di coppia è fondato sull'amore reciproco e una cosa che abbiamo imparato negli anni è quello di apprezzare ed amare i nostri reciproci difetti, perché è molto facile amare le qualità dell'altro, invece bisogna apprezzarle i difetti per poter veramente conoscerlo fino in fondo. Io faccio il musicista di mestiere, quindi questo lavoro mi porta spesso fuori casa anche per diversi mesi e porto con me però sempre questa esperienza di amore reciproco nella nostra famiglia. Questo fatto mi porta spesso a parlare della famiglia quando sono fra colleghi, fra musicisti e questo testa anche molta curiosità, perché insomma fa parte proprio della mia vita, quindi è sempre molto presente. Poi è molto bello quando torno a casa perché è come se non fossi mai partito dal punto di vista dell'amore che trovo, anzi trovo sempre molto più affetto rispetto a quanto sono partito, quindi questo perché proprio quello che cerchiamo di fare è proprio di costruire nell'amore i nostri rapporti quotidiani. Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere esaltare, il cui potere esaltare è a rendere possibili le cose impossibili. Vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà. Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido affinché abbiano una felice soluzione. Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te. Che non si dica che ti abbia invocato in vano. E poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. Amen. E difendici da ogni male. Amen.